Buongiorno, bentrovati, buona prima domenica dell'Avvento Ambrosiano. Vi leggo il Vangelo di oggi nella forma breve, tratto da Marco. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre il Signore Gesù usciva dal Tempio, uno dei Suoi discepoli gli disse Maestro, guarda che pietre e che costruzioni! Gesù gli rispose Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui, pietra su pietra, che non venga distrutta. Mentre stava sul Monte degli Udivi, seduto di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte Via noi! Quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi? Gesù si mise a dire loro Badate che nessuno vi inganni Molti verranno nel mio nome dicendo Sono io E trarranno molti in inganno E quando sentirete di guerre, di rumori di guerre Non allarmatevi Deve avvenire Ma non è ancora la fine Si solleverà infatti nazione contro nazione E regno contro regno Vi saranno terremoti in diversi luoghi Vi saranno carestie Questo è l'inizio dei dolori Ma voi Badate a voi stessi Vi consegneranno ai sinedri Sarete percossi nelle sinagoghe E comparirete davanti a governatori re per causa mia Per dare testimonianza a loro Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato A tutte le nazioni E quando vi condurranno via per consegnarvi Non preoccupatevi prima di quello che direte Ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato Perché non siete voi a parlare Ma lo Spirito Santo Il fratello farà morire il fratello Il padre il figlio E i figli si alzeranno ad accusare i genitori E li uccideranno Sarete odiati da tutti A causa del mio nome Ma chi perseverà Chi avrà perseverato Fino alla fine Sarà salvato In quei giorni Dopo quella tribolazione Il sole si oscurerà La luna non darà più la sua luce Le stelle cadranno dal cielo E le potenze che sono nei cieli Saranno sconvolte Allora vedranno il figlio dell'uomo Venire sulle nubi Con grande potenza e gloria Egli manderà gli angeli E radunerà i suoi eletti Dai quattro venti Dall'estremità della terra Fino all'estremità del cielo Parola del Signore Nel Vangelo odierno Il Signore preannuncia la distruzione Del Tempio di Gerusalemme Fatto che avvenne nel 70 dopo Cristo E annuncia anche La fine del mondo Ed il suo ritorno È quello che diciamo nel credo Verrà a giudicare i vivi e i morti Ed il suo regno Non avrà fine Ebbene Cari fratelli e sorelle Il tempo dell'Avvento Che oggi iniziamo È un tempo in cui Siamo invitati Ad attendere il ritorno del Signore Gesù A pensare al suo giudizio A pensare ai nuovissimi Che sono quattro La morte Il giudizio L'inferno E il paradiso A desiderare il paradiso E siamo invitati In questa prima parte Del tempo dell'Avvento Meditando il ritorno del Signore A coltivare la virtù della speranza E l'atteggiamento cristiano Della vigilanza Non facciamoci ingannare Dai false Messia Non facciamoci ingannare Dalle false promesse Che dicono Rinnoveranno l'uomo Non crediamo Che la tecnologia Possa rinnovare l'umanità Solo Cristo è il Salvatore dell'uomo Affidiamoci a Lui Usiamo bene Dei mezzi che il Signore ci ha dato Dell'intelligenza Ma con la consapevolezza Dei loro limiti Evitiamo Tutto ciò che è inganno Menzogna Camminiamo nella verità Ed il Signore ci darà la gioia Di incontrarlo Camminiamo nella speranza E stiamo attenti Il tempo d'Avvento Che oggi iniziamo Sia un tempo speciale Di preghiera Uniamoci Nella nostra preghiera Al Vescovo Che propone Di pregare con Lui Con il CAIR Delle 20 e 32 Potremo seguirlo Sul canale 195 Chiesa TV Oppure sul sito Chiesa di Milano Punto it Tre minuti Ogni sera Col Vescovo Per pregare con Lui Tutte le nostre famiglie Unite in preghiera Che l'Avvento Sia tempo di preghiera Tempo di speranza Tempo di vigilanza Preghiamo gli uni per gli altri E non lasciamoci intimorire Dalle nubi oscure della storia Perché Al di là delle nubi Risplende il sole della speranza Risplende il sole Chi è Cristo Signore Preghiamo gli uni per gli altri Buon Avvento Buona Domenica Sia lodato Gesù Cristo